Ehi, ciao! Scusa, scusa, la scottatura, scusa, scusa... Eh, vabbè, scusa, io vado in acqua dopo, allora... SCOTTATURA! Ciao, amici! Io adoro l'estate! E voi? Il sole splende, ma anche scotta! Dobbiamo fare tutti attenzione e allora vediamo subito le otto regole principali per applicare la protezione solare. Ma come, non vale la regola di scottarsi tutto il primo giorno così dopo ti abbronzi? Beh, non proprio, hai visto anche tu cosa è successo prima! Alla domanda, la protezione solare cosa mi serve? Tanto io mi abbronzo subito. Dovreste rispondervi che la protezione solare si chiama così perché protegge la pelle dai raggi solari nocivi, quelli UV. E oggi bisogna stare ancora più attenti. Anche i fortunati che raggiungono una doratura perfetta con una sola giornata di sole dovrebbero proteggere la pelle con un buon filtro UV che abbia un fattore di protezione anche minimo, ma presente. Per noi, mozzarelle biancolatte, per noi poveri mortali che siamo finalmente abbronzati quando la vacanza è finita, ecco le otto regole su come applicare la protezione solare per proteggere la pelle e avere un'abbronzatura perfetta senza scottature solari. Grazie a tutti! Bello godersi il sole in sicurezza, vero? E allora mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Lo sapevate? Recentemente è terminata una campagna di prevenzione chiamata Sole Sicuro, condotta dalla Ipsos per conto di Aideco. Su un campione di 1100 italiani, la maggior parte ha affermato di rispettare gli orari consigliati di esposizione al sole e di applicare la protezione due o tre volte durante la giornata. E la metà dei campioni afferma anche di usare abitualmente prodotti dopo sole. Fantastico, vero? Allora siamo bravi! Sì, ma bisogna anche fare attenzione ad alcuni errori comuni che compiamo spesso. Ecco le altre quattro regole per conoscerli tutti. Ma prima, per seguire tutti i miei consigli, iscrivetevi al canale. È facile, basta un clic così e attivate la campanella delle notifiche. Bene, condividete questo video con le vostre amiche, i vostri amici. Parlate di queste regole quando siete in spiaggia, è importante. E se vi chiedono dove avete scoperto tutte queste informazioni? Cosa rispondete? Fatemi vedere questo video. Io vi aspetto al prossimo video. Intanto buon sole a tutti, naturalmente. Ciao! Ho appena detto. Finito! Finito!